Sabato 22 ottobre, a partire dalle ore 18, presso il Museo Civico Luigi d'Avanzo, con il patrocinio del Comune di Roccarainola, sarà presentato il libro del Dottor Tommaso Aprile, dal titolo 184 a.C., un anno di scuola all'Iternum, con Scipione e Baccanali di Atella, edito dalla casa editrice Graus. Durante questo incontro interverranno la professoressa Iolanda Capriglione, presidente del Club per l'UNESCO di Caserta, il Dottor Giovanni Solino, direttore del Museo di Capua, l'architetto Luigi Di Tullio, studioso degli scavi di Luternum, il Dottor Tommaso Aprile, autore del libro, e sarà come moderatrice la Dottoressa Mena Cirillo. I saluti istituzionali da parte del presidente del Museo Civico Luigi d'Avanzo, Carmine Centrella, del sindaco di Roccarainola, Giuseppe Russo, e Giovanni Sirignano, presidente del Consiglio Comunale di Roccarainola, con delega alla cultura. Per tutte le informazioni potete seguirci su tutti i nostri canali social, Instagram, Facebook, TikTok e Twitter, Grazie a tutti.